Cari amiche e cari amici del clan georgici ben ritrovati anche oggi in vivaio video molto importante molto richiesto voglio parlarvi un pochino delle piante soprattutto le piante da interno e il loro rapporto con l'esposizione luminosa in particolare alla fine di questo video saremo in grado di capire quali piante possiamo usare in determinati ambienti della nostra casa in funzione della luce che abbiamo a disposizione partiamo subito dopo la sigla quando ho iniziato a studiare le piante da interno ricordo di essermi smarito più volte nel web tra l'altro era un'epoca in cui c'era soprattutto roba in inglese e quindi non mi erano chiari quei termini che incontriamo spesso luce diretta indiretta schermata diffusa e la più bella bright indirect light consiglio spassionato se iniziate a vagare tra i posti in internet che parlano di piante e luce è veramente una cosa delirante rischiate di uscirne con una gran confusione e senza alcun contenuto pratico spendibile tra le mani è un brutto trip che di solito si conclude in un delirio a luna di notte sei nel letto stai cercando di capire se la strelizia va nel salotto e ti ritrovi come minimo con un luxometro nel carrello di amazon e lo so amici ci sono passato comunque è uno strumento molto carino alla fine del video poi vi porto in giro con me andiamo a misurare un pochino di luce dentro fuori eccetera è davvero interessante si scoprono delle cose che mai avrei sospettato questo è un modello da 30 euro personalmente lo trovo ottimo se voleste acquistarlo potete utilizzare il link affiliation di amazon che vi lascio qua sotto in descrizione scherzi a parte un po lo stesso problema che ho con le ricette quando leggo qb quanto basta ma quanto basta cosa ditemi i grammi per favore ecco comunque anche a questa cosa troveremo una soluzione nessun contenuto web innanzitutto a mio avviso può soppiantare l'esperienza diretta che uno ha avuto ad esempio io leggo sempre che la mostiera deliciosa è consigliata per zone poco luminose della casa e anche io sono sempre stato tentato di ripetere un pochino a pappagallo questa cosa un po sbagliando magari a qualcuno di voi funziona benissimo secondo me la mostiera deliciosa in inverno in una zona poco luminosa della casa comincia a fare tutte le macchie classiche con l'alone giallo che poi necrotizza quindi francamente non la trovo una bella informazione dal punto della mia dal punto di vista della mia esperienza diretta vi invito sempre a non tralasciare quello che avete imparato molto spesso in direct in instagram ricevo delle richieste posso mettere un po tos in questo bagno molto buio c'è solo questa finestrina tolto che è molto difficile dietro allo schermo di un cellulare riuscire a capire effettivamente quanta luce ci sia a che ora hai fatto la fotografia in che momento siamo quello che consiglio sempre di fare è sì dico tendenzialmente ci può andare fai una cosa prendi il po tos piazzalo lì tieni monitorata la pianta e vediamo come si comporta le piante non muoiono se stanno qualche giorno qualche settimana in condizioni di luce non ottimale sotto la loro esigenza minima e questo ci dà la possibilità di fare quella valutazione di prima mano di cui parlavo prima e che è insostituibile poi vedremo anche quanti giorni può vivere una pianta senza luce alla fine del video per chi vorrà vediamo anche due o tre cose carine sicuramente quando una pianta non ha abbastanza luce una pianta da interno non è sufficientemente esposta ci dà tutta una serie di segnali che ci possono far intuire che ci sta chiedendo più luce sicuramente tra questi sintomi ci può essere il pallore fogliare e la perdita delle variegature succede ad esempio con le tradescanzie quando non sono esposte correttamente perdono le variegature colorate le piante a variegatura bianca a variegatura gialla iniziano a fare delle foglie che sono totalmente o quasi verdi se ci pensate questa è una strategia ottima da parte delle piante sentendo meno luce dicono cerchiamo di fare più fotosintesi possibile quindi mettiamo il pigmento verde e la clorofilla su tutta la superficie fogliare che abbiamo a disposizione la crescita può rivelarsi assente stentata l'aspetto generale della pianta è debole altri fenomeni che possiamo notare sono le piante che filano succede tipicamente con gli avocado fatti da seme che diventano delle antenne in casa perché sono piante fatte per star fuori quindi sentono poca luce continuano a salire perché dicono forse sopra c'è il sole e un altro fenomeno interessante da osservare lo potete potete fare l'esperimento anche voi a casa chiudendo una pianta una settimana in una scatola vedrete questo fenomeno dell'eziolatura cioè le foglie diventano totalmente bianche in questo caso la pianta capisce che di sole di luce non ce n'è più e quindi richiama tutta la clorofilla tutto il pigmento dalle foglie tanto dice fotosintesi non se ne fa meglio metterla a scorta quindi i passi per scegliere correttamente pianta e luogo della casa in cui metterla sono la valutazione dell'ambiente in cui la vogliamo mettere e la valutazione ovviamente di una pianta che possa combinarsi con questa posizione è chiaro che su questi primi due punti dovete trovare un po una quadra di massima una liqua alla grandis come questa sicuramente non ci provo nemmeno a metterla nel seminterrato con le bocche di lupo che mandano dentro la luce di una candela terzo punto si monitora la pianta e quarto punto eventualmente riposizionamento per facilitare questo processo in quattro punti vi ho preparato una mega tabella dove ho messo spero la maggior parte delle piante da interno suddivise per colonne in funzione dell'esposizione luminosa quindi ho messo le piante per poca luce media luce tanta luce e luce super intensa piantate di fare gli screenshot del cellulare o dello scanner del pc la tabella la potete scaricare dall'articolo del blog è linkato qui sotto spero che possa esservi utile ci sono alcune terminologie che devo specificarvi perché altrimenti non riusciamo a leggerle insieme questa tabella ho tenuto conto di due approcci possibili al problema quello qualitativo cioè poca media tanta luce e quello quantitativo ad esempio da 1000 a 5000 lux questi termini che vado ora a spiegarvi non servono solo per interpretare la tabella ma tutto quello che troverete nell'internet sui libri sulle guide sulle riviste sto già pensando al titolo da dare a questo video sarà qualcosa tipo facciamo luce sulla luce il lux è l'unità di misura del flusso luminoso che si misura invece in lumen per unità di superficie è praticamente la quantità di luce che colpisce un metro quadro è importante perché utilizzare il lumen non tiene conto della distanza tra la fonte di luce e l'osservatore cioè prendo una lampadina dove c'è scritto 300 lumen ma se la metto a un chilometro di distanza è ovvio che non ne vedo nemmeno uno di quei lumen è la misura migliore che potete trovare a mio avviso in un approccio di tipo quantitativo ma potrebbe capitarvi su siti americani e inglesi di trovare anche food candle fc ftc perché figuratevi se gli anglosassoni potevano utilizzare il sistema internazionale no hanno le loro unità di misura e quindi sono i lumen che colpiscono un piede quadro di superficie se volete convertire ricordatevi che un food candle è uguale più o meno a 10 lux micromoli par ppf ppfd non ve le spiego perché a meno che non stiate coltivando ganja nel garage della vostra casa sono davvero inutili anche se sono cose molto interessanti ho spiegato tutto nell'articolo del blog che trovate linkato qui sotto vediamo poi quali sono i diversi tipi di luce luce diretta significa stare all'interno della proiezione della luce che entra direttamente dalla finestra e quella zona dove si vede il rettangolo di luce per terra oppure quella subito dopo il vetro di una finestra all'interno della casa difficilmente abbiamo luce diretta su una finestra che è rivolta a nord non ci devono essere tendaggi non ci devono essere schermature il raggio del sole picchia diretto sulla foglia della pianta ovviamente difficile avere una posizione in cui abbiamo tutto il giorno la luce diretta direi impossibile a meno che non sia una stanza rotonda e molto strana però si parla di posizione luce diretta quando ci sono più di quattro ore con questo tipo di illuminazione la luce in diretta è lì vicino alla luce diretta ma ci scostiamo da quella proiezione perfetta della luce quindi siamo fuori da quella sagoma è comunque una posizione dove la luce è abbondante la posizione di luce schermata vede una luce uguale a quella di tipo diretto ma c'è un qualche tipo di barriera che la filtra un pochino tipicamente un tendaggio una come si chiama zigrinatura del vetro della finestra una cosa molto importante perché luce schermata è molto spesso prescritta per le nostre piante d'appartamento l'errore che si fa più spesso è pensare che questa prescrizione valga 12 mesi l'anno no assolutamente le piante prescritte in luce schermata vanno così poste durante le stagioni più calde dell'anno ma se mi mettete una pianta che ha bisogno di luce schermata in luce schermata a dicembre o a gennaio secondo me non fate un buon affare anche a luglio la luce diretta dalle 8 di mattina non rischierà di scottarvi le foglie di una pianta quindi cercate sempre di ragionare un pochino luce diffusa è un termine più generico che di solito si può ricondurre a una luce di tipo indiretto una luce di tipo schermato ma comunque omogenea quindi prendete il libretto a pagina 34 per il canto simbolo 85 sto scherzando prendete in mano la tabella adesso ve la faccio vedere anche a tutto schermo vedete che ho fatto queste quattro colonne ci sono degli intervalli per chi sceglie il metodo quantitativo e quindi vediamo ad esempio luce media siamo tra i 1000 e i 5000 lux in questa tabella ho tenuto gli intervalli minimi come requisito di sopravvivenza per le piante ma se volete vederle crescere vi consiglio di stare nella seconda metà di questo intervallo quindi fra i 2000 e i 3000 e i 5000 lux questi sono degli intervalli che ho misurato a mezzogiorno e in una stagione intermedia tipo aprile maggio chiaramente nelle prime ore del mattino nel tardo pomeriggio avremo dei valori inferiori così come anche se misuriamo a dicembre tra l'altro già che c'era nel preparare la tabella ho anche messo una indicazione sulla quantità di acqua che queste piante necessitano prendetela proprio come indicativa ultima cosa prima di leggerla insieme ci sono ulteriori fattori correttivi che probabilmente avete intuito ma io ve li devo dire lo stesso il primo è la stagione l'abbiamo già detto il secondo sono le ore della giornata il terzo è anche la latitudine ovviamente il sole che c'è qua a brescia è diverso dal sole che c'è a catania nello stesso giorno dell'anno poi c'è la questione delle ore di luce oltre all'intensità quello che dicevo prima se volete una pianta che richiede tantissima luce e magari avete una finestra dove prende il sole diretto ma solo per un'ora al giorno magari potrebbe anche non essere sufficiente ultima cosa riguarda le piante variegate come ho accennato prima se avete situazioni poco luminose e vi dicono sì la monstera va bene è la monstera deliciosa non la monstera albo variegata perché vi perdete tutte le variegature adesso vi faccio vedere anche come si è ridotta in questo ufficio una monstera albo variegata e qua di finestra ce ne sono ci saranno due finestroni enormi ma di inverno la luce qua è troppo poca nella prima colonna a sinistra abbiamo le piante che stanno bene con tanta luce diretta diciamo più di quattro ore tra le altre ho messo il croton ficus lirata il pino di norfolk non so se lo conoscete bellissimo la raucaria la nolina la mangia fumo eccetera eccetera per te che stai girando con luxometro in mano che hai comprato ieri notte su amazon ti dico lux maggiori di 10.000 nel secondo gruppo di piante quelle ad alta alto fabbisogno luminoso siamo tra i 5.000 e i 10.000 lux qua ci stanno piante come la begogna la tillanzia le dracena la monstera ancora il fico slirata ecco come vedete alcune piante le trovate in più zone perché hanno un range di tolleranza molto ampio perfetto c'è poi questa zona di media luminosità siamo tra i 1000 e i 5000 lux ci stanno piante bellissime tipo gli asparagine gli asparagus ancora la monstera le maranta la quenzia poi c'è la zona del buio totale la zona dell'oscurità la zona a luminosità bassa tra i 250 e i 1000 lux e qua ci stanno delle piante tipo la sanseveria tipo la spidistra la pianta di piombo la palmareca la aralia sicuramente i potos lo zamio spatifillum anche i filodendron li ho messi soprattutto con riferimento a quei filodendron a foglia verde gli in filodendron imperiali vanno benissimo qua non ovviamente un white knight o un pink princess ecco va bene io ho finito con la tabella spero che sia uno strumento abbastanza utile spero di avervi chiarito anche un pochino la terminologia che ricorre quando affrontiamo il tema delle piante d'appartamento e della luce adesso mi piacerebbe fare un esperimento con voi con il luxometro e misurare la luce dentro la stanza e appena fuori dalla stanza cioè al di là del vetro alla finestra vediamo cosa succede allora qua attaccato al vetro di questa porta finestra che volge a nord vi ricordo che è una giornata piuttosto nuvolosa sto misurando qualcosa in più dei 5000 lux 5253 ma guardate cosa succede se già giro il bulbo facciamo finta di essere una foglia che sta verso il dietro della finestra guardate il valore precipita siamo sui 500 600 lux proviamo adesso a uscire qua appena fuori dalla porta e a misurare di nuovo guardate siamo sui 10.000 12.000 13.000 lux già se ci spostiamo all'aperto e andiamo proprio sotto il cielo senza alcun tipo di schermatura abbiamo 24.000 lux tenete conto che è una giornata molto nuvolosa con il cielo coperto qua siamo all'interno della serra ci sono sempre le nuvole nel cielo e i telly svenson che ombreggiano parzialmente la situazione siamo a 11.000 lux vi do altri dati sui lux misurati in un ambiente interno ad esempio cielo notturno limpido 0,2 0,5 lux in una giornata molto luminosa o in uno studio illuminato solo artificialmente di solito abbiamo circa 1000 lux quando usciamo all'esterno e ci mettiamo all'ombra di una pianta misuriamo dai 10.000 ai 25.000 lux se ci mettiamo fuori in pieno sole andiamo dai 30.000 fino ai 100.000 lux cioè capite l'enorme differenza che c'è fra un ambiente interno e un ambiente esterno il motivo per cui continuo a insistere consigliandovi di portare durante la bella stagione le piante da interno fuori dalla casa ma anche sotto un portico avrete un ordine di grandezza in più di lux ci accorgiamo quindi che in casa non facciamo altro che mantenere un pochino queste piante cioè quando i produttori lavorano nelle serre cavolo le foglie da quelle piante escono a un ritmo impressionante che noi non immaginiamo nemmeno che è il ritmo che queste foglie hanno quando escono in natura nel loro ambiente naturale nell'aria aperta questo giustifica anche da un senso a quei piccoli tracolli che a volte notiamo quando andiamo in serra dai vivai le georgiche ci portiamo a casa una bella mostera deliciosa oppure ci siamo fatti arrivare un bel melanocrisum sempre dai vivai le georgiche ci arriva a casa a domicilio con la scatola apriamo magari nei primi giorni la pianta accusa qualche rovinatura fogliare eccetera ci chiediamo sempre il perché ma chiaramente abbiamo visto in serra quanti lux c'erano sappiamo quanti lux abbiamo all'interno delle nostre case quindi quando portiamo a casa una pianta o quando riceviamo una pianta a casa il mio consiglio è sempre quello di sovra esporla almeno per i primi giorni e poi passare gradatamente alla sua posizione definitiva alcune domande ricorrenti le piante possono crescere senza luce solare o artificiale no questo non è possibile ovviamente tutte le piante hanno bisogno di fare la fotosintesi per vivere quindi hanno bisogno della luce è chiaro che possono resistere diversi giorni dopo vediamo anche quanti senza fotosintetizzare hanno un sacco di zuccheri accumulati come riserve possono intanto andare avanti a bruciare quelli la gente è sempre molto preoccupata di ricevere le nostre piante a casa nelle scatole perché dice oh mio dio la pianta sta 24 48 ore senza la luce se le piante manco se ne accorgono possono stare nella scatola per dieci giorni e stanno benissimo fanno eccezione le piante parassite ovviamente che prendono la linfa già elaborata dalla pianta ospite il vischio ad esempio fa un po e un po è una emiparassita ha sia le foglie per fotosintetizzare in più parassitizza se non vi è chiaro il concetto di fotosintesi e dell'importanza della luce per le piante non ripeto l'argomento vi lascio linkato qui sopra il video in cui ne ho parlato specificatamente le piante che necessitano di poca luce possono sopravvivere anche a 14 20 giorni di buio completo quelle da media esposizione tranquillamente 10 14 giorni quelle che richiedono tanta luce sono un pochino più esigenti quindi riescono a sopravvivere senza luce per 4 10 giorni al massimo è possibile coltivare piante utilizzando la luce artificiale assolutamente sì sappiamo benissimo esistono le grow light quello che spesso sfugge è che in un garage senza finestre la sola luce di un neon da ufficio è assolutamente non è sufficiente non è una luce che convoglia abbastanza energia alla pianta quindi possiamo fare a meno della luce solare anche totalmente ma abbiamo bisogno di lampade specifiche delle grow light possono essere lampade al sodio possono essere lampade a led ce ne sono di diversi tipi alcune le ho riportate nell'articolo del blog se volete andare a vedervele però devono essere grow light un'altra domanda che mi viene fatta spesso a proposito delle grow light perché abbiano quel colore rosso e blu questi colori intercettano la maggior parte dello spettro a noi visibile escludono quelle frequenze mediane che sono quelle nell'intorno del verde perché se ci pensate della luce verde le piante non se ne fanno assolutamente niente tant'è che noi vediamo una foglia verde proprio perché il pigmento clorofilla è verde e questo vuol dire che le frequenze del verde rimbalzano sulla clorofilla non vengono assorbite e tornano nei nostri occhi ecco perché percepiamo questa foglia verde perché il verde è una frequenza che non viene assorbita un'altra domanda è le piante possono essere lasciate al buio allora non so cosa si intende lasciate al buio per diversi giorni ok non muoiono però non è una bellissima cosa quello che posso dirvi per certo è che le piante devono seguire questo ciclo circadiano questo alternarsi quotidiano tra una fase luminosa e una fase oscura bene clan georgisi spero che questa spiegazione sia di linguaggio specifico che lo strumento della tabella possa esservi d'aiuto se il video è stato di vostro interesse lasciate un mi piace se no l'avete già fatto iscrivetevi al nostro canale youtube dubbi e perplessità lasciatemela nei commenti sotto il video io vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento alla prossima settimana vi ricordo il nostro hashtag è sempre lo stesso make the jungle anche su instagram mi piace Grazie a tutti